Grazie a tutti. Il basket femminile batte la Grecia 72 a 57. Il volley maschile vince facile sul Brasile 3 a 0, mentre il volley femminile sconfigge per 3 a 1 la Polonia. Il nuoto fa ancora la storia, portando a medaglia, per la prima volta in una staffetta, un bronzo nella 4x200 femminile. Per una di loro, Sara Maragno, arriva anche un argento nei 50 stile libero, a rendere straordinaria la serata. Soffre invece il tennis, che debutta nel doppio con una sconfitta. Giulia Bassini e Cristina Abrami cedono 6-1, 7-6 alle tedesche. Oggi, con Taipei, ci si riprova e la stessa Abrami sfiderà nel singolo un'altra atleta di Taipei. Infine, il beach volley ha perso 2 a 0 contro l'Ucraina del campione olimpico, 21-14 e 21-16 parziali. Oggi Aquilani e Musacchio, comunque già qualificati, sfidano il Giappone per cercare la migliore posizione. Grazie a tutti.